Inaugurato il primo impianto siciliano di biometano prodotto a seguito del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Il nuovo impianto, sorto in contrada Grotta Rossa, potrà recuperare dai comuni limitrofi circa 36.000 tonnellate annue di rifiuti solidi urbani e contribuirà a migliorare l'efficienza del sistema dei rifiuti della provincia e della regione, favorendo la riduzione dell'impatto ambientale attraverso un minor ricorso alle discariche, al trasporto dei rifiuti fuori ragione e una conseguente riduzione dei costi a carico del comune e dei cittadini. Biometano sì, significa che bisogna differenziare di più, dobbiamo aumentare soprattutto le tre città metropolitane la quota di raccolta differenziata, occorre migliorare la qualità della raccolta differenziata e rafforzare l'impiantistica. La capacità annua dell'impianto a pieno regime è 3,6 milioni standard di metri cubi di biometano avanzato, equivalenti ad una riduzione delle emissioni di 7.000 tonnellate di anidride carbonica immesse in atmosfera, pari a quella prodotta dal riscaldamento di 3.500 appartamenti. Il digestato, ovvero il materiale di risulta rimanente dalle lavorazioni dei rifiuti, sarà trasformato in compost di qualità come fertilizzante per l'agricoltura, con una produzione di 10.000 tonnellate annue utili per concimare più di 300 ettari di terreno, pari alla superficie di 450 campi da calcio. In questo momento la produzione di biometano è finalizzata al trasporto, quindi noi possiamo dire che può alimentare circa 3.000 mezzi di trasporto l'anno la nostra produzione, quindi evitare che ci sia un utilizzo di altrettante tonnellate di petrolio, quindi sono proprio emissioni evitate concrete, quindi va proprio nella direzione della transizione energetica della decarbonizzazione più classica. Durante l'evento di inaugurazione la SNAM for Ironment ha simbolicamente consegnato al comune di Caltanissetta la pista ciclabile realizzata dalla società vicino all'impianto, un'opera pensata per valorizzare il territorio, dando un contributo alla fruibilità dell'area stessa da parte di tutta la comunità locale. La straordinarietà di questi impianti è che permettono all'Italia di prodursi da sola quel metano che noi ancora oggi importiamo dall'estero e la guerra in Ucraina dimostra quanto è importante velocizzare la riconversione ecologica del paese producendo le rinnovabili sul territorio nazionale.